Vai Maurizio! Andala! È iniziata ragazzi, siamo in stream da ora. Confermi, confermi, ci siamo. Basta ricaricare la pagina, vi dico anch'io. Vediamo... Si ricarica la pagina, è solo... Siamo in streaming, si. Ecco noi che veniamo. Come no? Sì! Partito, 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 partito. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Signori, benvenuti! Una sessionata pazzesca che ci aspetta quest'oggi. Siamo io, Ron, Zamp, Deluxe. E come ospiti speciali, Lama e Velux. Grande Lama, bravo. Buongiorno. Applauso per Lama. Prima di partire si sente tutto. Cos'è? Delu, o chi è Lost, butta fuori quei due lì e chiudi il gruppo. Ma io sento tipo un allarme, raga. Cos'è questo? Ci sono entrambilati in casa. Chi è che sta subendo un furto in casa? Ok, perfetto. Ma io non ho sentito nulla. Comunque, avvertiamo a tutti gli telespettatori, telespettatori, che oggi giocheremo, o almeno cercheremo, di giocare sulle nuove mappe del DLC Awakening che è uscito oggi. Non usciranno mai. PS4. Allora, Delu, sai come devi fare? Li butti fuori, poi chiudi il gruppo. Eh, ma ho chiuso il gruppo. Come cacchio funziona adesso? Triangolo, giustici il gruppo, chiudi il gruppo. Eh, ho già fatto, ho già chiuso da mezz'ora. Io sto per morire in live, comunque. Ok, Ron intanto è malatissimo, quindi... Molto malato, Martian. Esatto. Eh, ho capito! Posso fare... Ancora. Sono più potenti, ragazzi. Se pensano che questi qua siano molto simpatici a fare questi numeri qua, ve lo facciano sapere. Parti subito, Delu. Che partita? Modalità, ditemi voi. Dominio, dominio. Hai dominio, dai. Ma non l'hanno messa la modalità delle nuove mappe? No, non ancora. No. Però non la metteranno. È possibile sicuro di questa mappa. Va bene, non dispongo della mappa. Ragazzi, io non ci sono. Eh, dovete rientrare da me. Non dispongo della mappa. Gabo, se ci combini. È aperto, è aperto. È un inizio incredibile questo. È un inizio incredibile. Vabbè, ragazzi. Vabbè, ragazzi. Dai, recuperiamo durante la stream. Comunque, nel frattempo, nel frattempo che rientriamo, io con la mia bellissima voce sensual stasera, vi volevamo comunicare che faremo allora un po' di partite comunque online. Poi ci sarà un momento in cui inizieremo a farci del male tra di noi, quindi a sfidarci a vicenda. E poi alla fine faremo anche un po' di zombie con quattro di noi che giocheremo un po' la mappa zombie. Raga, Ron, stasera muore, perciò scrivete. Cioè, non notate con che voce vi sto parlando. E io domani devo registrare un video. Come faccio a registrare così, ragazzi? Non lo so. Ah, non ce la fai mica, Zeo. Ti chiedi per malattia. Ci manca... Just Ron, proprio lui. Just Ron, proprio lui. Just Ron. E seguite, ragazzi. È arrivato in ritardo di quasi 30 minuti. Eccolo qua. Partitello. Partiamo. Seranno che vada. Stai giocando... Lama gioca sul fatto che non può rispondere Ron, quindi... Non ho la mappa. Ragazzi, a me non carica niente. No, e Gabbo... Dice che Gabbo non ha la mappa, probabilmente. Ma anche a me lo dice. A me dice impossibile ospitare la lobby. Ah, ragazzi, gioinatelo a me, subito. Entriamo da Lama, dai. Entriamo da Lama, dai. Entriamo da Lama, va là. Entriamo da Lama. Non ho Lama tra gli amici, quindi gioinate voi. Perché non ho Lama tra gli amici? Perché non ho Lama tra gli amici? Sì, a trovare una cosa. Iniziamo già a farci del male tra di noi all'inizio. Sì, esatto. Io ho gioinato Babbo di Squared, vediamo. Ci sono. Grande Babbi di Squared. Dai, manca uno. Manca Ron. Sempre lui, madonna. Raga, ho cambiato l'applicazione che mi è crashato tutto. Ah, allora hai tu il problema, eh. Lo vedi? Che non è colpa di Lama che arriva... Che sei tu che arrivi in ritardo. Una volta che vogliamo partire, mica lascio io. Vabbè. Ok, ce n'è uno in più. Ok, togliete Venom. Lama sei Dio. Mi sento famoso. Anche la nostra famiglia, poverino. Ah, madonna. Perché non mi fa accettare le richieste di Lama? Perché? Eliminiamo Zorro, scusami. Era un tuo grande fan. piccolo, bro. No, sicuro. Poi sono inizio a fare le Z con la spada. Ci siamo? Vai! Sta cercando, incredibile. Era colpa mia, allora, scusate. Perfetto. Rise! Incredibile. Rise! Raga, questi sono fortini, sembrano. Iniziamo ad avere paura un attimo per... Sì, ma... Non abbastanza. Classifica Lobby. Non ho potuto ammirare Gabi Squared in prima posizione. Cazzo, io non conosco sta mappa. Sono fritto. Velo nuova. Eh, lo so, ma non l'ho neanche provata prima. Ragazzi, Gabo ha 1500 punti al minuto, praticamente. Cazzo, io sono poco sotto J-RON. Gabo, sei un nerd! Però attenzione, signore, c'è Emma dall'altra qua. No, non c'è più. Gabo, prima il Lobby, indistrutto. Mamma mia, Gabo, che nerd. Che gamba di squalo! Trovi la difesa. Ragazzi, ma chi è che c'ha quel TT ogni tanto? Una bomba in procinto di esplod... Eh, è T-Speak, è T-Speak. Devi, tipo, mutarti. Devi metti di mutare anche l'audio. Esatto, esatto. Ma anch'io lo farà chiuso. Io mi metto le cuffie, raga, così riesco a morire più volte. Tutti entriamo in armi. Ma perché ho psicosi? Sì, per favore. Perché abbiamo poche... Ah, ragazzi, dobbiamo scegliere se giocare per vincere o per far kill. Ah, Deilu, quando puoi scrivi... Deilu, quando puoi scrivi nel titolo del video streaming, magari. Che la gente non se ne resa conto. Ho visto un paio che hanno detto che pensavo fosse un video. Golla! Eh, beh, certo, è la stessa cosa. Live streaming. Eh, troppo, guarda il streaming. Cazzo duro. Ci siamo, incredibile. Odio che si avvicina la gangbang, solitamente, raga. Ve lo dico per esperienza. Eh, adesso me lo dici, proprio io che ho il cecchino. Mattino. Ragazzi, mi racconto. Ok, presa. Dov'è la gangbang? Non c'è più, ragazzi. Vai, raga, che tiro il nuclear, me lo sento. Dai, ragazzi, dai, ragazzi. Ma due di fila! Andiamo al nuclear, ha rotto lo spawn. Eh, raga, è lo spawn rotto sotto lo spawn. Partito! Raga, prendiamo il C, dai. Vai, 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 vai. Voglio una conquista veloce e pulita. Incredibile. Va a vivere io, ma perché? Ah, no, non sono l'unico modo. Occhio rossa. Oh, grazie a te. Ok. Era one shot. Occhio su B. Cazzo, l'ho visto dopo. Tiro la stanna. Allora, io cerco. Velox davanti. Bravo, Velox, giocatore. Troppo forti. Mi scuonano addosso. Mi scuonano. Ti prendiamo CP, raga. Chiedo scusa se non parlerò tanto, raga, ma per motivi di transessualità della mia voce. Alla dentro. No, Zampa, allora, devi capire che se tu roli, giochiamo male, capito? E poi ti prendo a testate. Ecco. Infatti, inizia a moderare i tuoi toni. Chi è questo bellissimo colpo fulminante, Zampa? Mi non ha preso nessuna. No, ho preso uno, dai. Zampa, no, bravo, bravo. Chi lo venia, bravo. Sto pregando un pistol, non lo ti covo comunque. Ma dove sono? Eh, me lo avevo visto che ce ne erano tipo mille su B. Stanno prendendo ciccia. Ah, andiamo a prendermi e li lasciamo gli di Cisù. Lasciamo i bravi che sono due. Non mi sale. Ah, non ho le granate. Quello è un problema delle quali non sale, eh. Vabbè, a cagare, vai. Allora ne sai qualcosa, eh. Ho ti su B. Ehi, sono su B. No, 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 ti sto soltanto vicino in questa... Unissimo mestre di defiance. Esatto. Hai preso, Teo, bravo. No, no, teo ti sta ruotando in giro. Sta ruotando, ma sbagato, rega, occhio. Prendete B, raga, dopo, eh. Eh, ci sto provando. Ce n'è uno, ma non ho capito cosa vuole fare. Una mano, niente, perché è morto, niente. Cazzo, cazzo, teo, last. Ti do uno Hav. Da dietro! Sono su A che stanno... No, sì, sono su A. Stanno prendendo A. Io provo a prendere B, raga. Eh, anch'io, anch'io, eh. Datemi una zampa. Lama, dammi lo zoccolo. Arriva lo zoccolo, eccolo. Preso. Cazzo, ragazzi, arrivano da A, eh. Sotto controllo. Sì. Trap shot. Mi tiro un bel contro-attacco, wow. Io mi butto su A, vedo se riesco a catturarla. Ero dietro un tuo clone e Lama pensavo che fosse il clone, invece di te è quello vero. E Lama... Puoi rubarmi da kill, quindi, eh. Oddio, non so dove arrivano. Voglio fare 3, 2, 1. Tutti in C, ragazzi, tutti, tutti in C. Ok. Attento, vero. Raga, uno fa il giro da dietro, uno fa il giro da dietro. Oh! Questo c'è un fantasma attenti, eh. WB per voi. Grazie a Dio. Uno con fantasma, raga. Occhio, eh. Aspetta che io voglio restare qua in mezzo per vedere... Ah, dai, con la KvK, sì, chilometro. Eh, la KvK è forte, raga. Cazzo, è possibile. Ma sono su A? Sono su A un faglio. No, 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 ragazzi. Ci sono spawnati dietro. Eh, Picasso stanno girando lo spawn in modo incredibile. Ah, raga, poi tra una paura e l'altra leggeremo anche la chat, i vari commenti, le varie cose, quindi non preoccupatevi, perché ovviamente non vediamo... Fa una kill e mezzo, c'ho later. Eh, non dimmelo così, dai. Ma sono usciti? No, perché non vedevo più nessuno. Io non li vedo. Io non li vedo. Ho appena detto, eh. C'è uno mi ha affettato come un putino. Ah, 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 ah. Allora... Oh, grande zio. Grande zio. Che cattiveria, mamma mia. Che apre scuola. Perito, perito quello, one shot. Che ho preso. Ragazzo non lo succì di nuovo, eh. Veramente son sua, credo. Sì, son sua, uno è sua. Uno lo uccide, se sono altri. No, ho passato. No, ho passato. Oh, due tucì. Ma perché sono tutti, ragazzi? Fa tipo... Non tucì, ma non vogliono prendere la bandiera. Sono usciti e sono rientrati alcuni, sì. Li stiamo alquanto distruggendo, perché... No, sì. È andata a 38. È andata a 38. È andata a 38. È andata a 38. Ah, raga, il problema dei gruppo è che escono questi. Gioco si inserono? Sì, sono... Abbassa un po' la... Abbassa un po' la musica, Delio, è troppo alta, dicono. Corri. Ma togliela proprio, Bomber, vai tranquillo. Togli la musica, sti cazzi. Sì, tanto... Sei tranquillo. Mamma mia, ragazzi, che team, però. L'ho abbassata al minimo, magari un po' di... Può far piacere un po'. Oddio, adesso... Comunque, raga, vi consiglio... Icr, silenziatore, fuoco rapido. Così. Uavì, per voi. Grazie, Bomber. Cazzo. Andiamo su più diretti. Occhio. Centro. Dai, dai, dai. Dai, 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 buono. Ragazzi, se l'adeva stato tutto. Poi io provo ad andare contro. Uavì, disturbo alleato in arrivo. Ragazzi, stanno tutti quanti in giro verso C dal lato. Si stanno cercando di andare in cinza. Sì, sì. Chiamo A, dai. Io so su. Mi son dietro e mi ammazzo tutti. No, in due sono arrivati, bravo. Stavo facendo un fail che non riuscivo a capire dove cazzo fosse questo qui. Chi è il pazzo che sta in amore? Io. Zamp. Si, è matto dalle gare. E infatti è morto. Però l'ho preso. Lasciateli una bandiera, però, eh, perché se no mi spawnono in faccia. Giusto, giusto così. Non me ne accorgo. Oddio, oddio, oddio. Ma nooo. Mi mancava un po' che ho visto. Eccolo, lo sapevo. Saffa culo. Ho il che subì. Avevo 16 di fila. Faccio. Madonna col pombo. Laterale col pompone. Madonna santa, l'ho visto. Eh, non mi iniziano a mandare i messaggi e non vedo un cazzo una mappetta. l'ha detto. Sì, non ci vedo, ti scuse. Sì, si aspetta ai turni da notifici. È un altro che vuole uccidermi, no, eh. È allora. Qu'è questo? Non lo so mai. Non lo so mai che, è uno, perché non è suarlo. Stipla K, non è proprio una cosa geniale. Non è un riuscito, raga. Penso su a, sicuramente. Ragazzi, vi stato. Ma, attovole a grande? Quanto li ho usati con il conquistone, raga. Che cosa so che questo col cechino? Io penso è il prezzo del rusco, lo spudorato, proprio e caro mi ammierò unica continuazione non prendono a ma più che altro, infatti ne vedo mille di su A e le su A eh cazzarola allora raga io me ne sto su C lasciate fermi ci siamo intesi subito guarda che ti do un colpetto da dietro grande ecco lì ah no proprio quello lì intendevo Bomberton eh scusa inizio non prendiamola non prendiamola ci ci sono i quei cloni che la stanno prendendo no raga ho failato una cosa che non potete capire mi voglio suicidare no ma ha arato sto stronzo da dedo non voglio più vivere su questa pianeta raga basta esatto c'è uno col vesper mi ha arato perchè poi sto facendo il faro che non ho mai arrivato boh questa musichetta ma dov è sul gioco si sente a malapena madonna ragazzi no è lì su dov'è dov'è ha fatto cagare la nostra zappa ma che drop su zamp e beh figa non solo dov'è dove sei merda che è questo faro di teo prendiamoci no no lascia no guarda hit marker da mezzo metro mmm che divertente non c'erano avuto modo di respirare puretti eh ma infatti più che altro acci io cambio arma dalla prossima questo lo fatto proprio di me o da come la mia voce stasera stasera è molto sensuale però che quella verità eh ma ha ragione è un po' sul transessuale più più sexy oh guarda com'è piatta questo oh dio dov'è gabbo eh questo qua era un grillo proprio ah scusate grillo allagante ce ne sono mille lì in fondo dai una shite fatemi diverti un po' è finita la partita zio scusa non è finita finchè non lo dico io tu 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 la raga per festeggiare tutti insieme molirò in santa pace colpo fulminante alleato quella madonna vai con questo ok finisce così vabbè ottimo eh vabbè ci piace ci piace dai che ha preso con quali problemi raga cioè io volevo dire un attimo quelle che stimo in chat ma cercate di essere un minimo educati e non tirare una bestemmia ogni giorno dei commenti non è una cosa molto carina cioè non è che dimostrate di essere più bravi se ti tirate una bestemmia ogni commento mi sentite agab vabbè mi sentite agrid bravo e anche velux applaude e dice grazie avete tutti che le nigra i commenti non possiamo leggerli mentre giochiamo quando finisce la partita li leggiamo ok abbastanza scontatta la cosa delu non li prendi manco ci stanno fermi ma che porra ma vogliamo sono loro che decidono tutto quanto adesso raga ogni volta che vedo uno per stemmiare lo blocco eh il martello del banner è proprio ora che si possono mettere tipo anche le parole che non si possono utilizzare quindi bellissimo eh raga flash è bellissima raga si? si la più bella è la storia di code ma è un remake o è proprio no? no 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 è la miglior mappa mai fatta su code ah ok la più bella è la estetica è la migliore scusa non volevo aggrediarti la mappa lo concatino ma è la minifor non era di intenzione ahahah io dicevo oggi a ron che a colori mi ricorda un po' carnival del mappa anche vero vero si anche splash un po' di colori ma poco poco però no ma che cazzo dico anche splash si chiama splash porcogiorno come si chiama quella quella db2 come si chiama? era eh ho capito tu 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 insomma abbiamo capito vabbè si una ma cosa? ma qual è? ecco la nave di lama capitan lama ragazzi ron è caduto nell'oblio proprio è morto no raga ogni volta che dico una parola mi viene un mal di gola atroce e muoio mi sei morto almeno sei volte si probabilmente mi sta salendo la febbre in live che bella cosa ragazzi preparate i videotributi eh si si riproning riproning beh guarda tutto è possibile Gabbo tutto è possibile comunque ma io quando guardo lo shite di Gabbo di Squared veramente ce l'ho duro come un martello ma ti viene duro no non ho cambiato lo psicosi dio più ma se volete mettere tutti quanti shite ditelo che lo piazzo anch'io si poi arriva lama con lo shite però senza lo shite con il robot senza lo shite no no vai faro proviamo col faro dobbiamo fare da guardare non è la ragazza di slide fermi tutti che si guarda ci 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 siamo arrivati uguali e la mamma com'è sta mappa non la conosco velox senti subì guardale è bello e basta seguitemi seguitemi quanti seguitemi 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 c'è 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 una zanzara sullo schermo mi sembrava nel gioco ma come fare se c'è una zanzara che ci sono giuro grandi anche da me ci sono le zanzara non so come se poi non ci sapete poi nel gioco cioè vabbè vabbè ebbe una mappa di piscina magari ci hanno messo un po' di elementi tropicali in hd ooooh aiuto prendiamola prendiamola oh la venti oa fermi 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 abbiamo perso il char no vabbè non l'ho preso no ragazzi ma è comunque meglio avere ticca ma avete presente quando usate l'xr2 poi mettete l'm8 e tenete prunuto per sparare e voi vi ricordate ma dove sono questi? e poi morì magari ti incazzi pure col gioco ma perchè non spara? si non capivo e ho detto che cosa è successo? madonna niente più niente più sniper raga a me su sta mappa mi piace troppo fare gli attacchi dall'acqua ma che cazzo attacchi che io sto ma dove sono io non vedo nessuno regà non trovo nessuno un polvo ragazzi fantastico vedi non devo ascoltare la mano nel guard... non devo guardare la mappa cazzo la mano non lo devi mai ascoltare proprio no mi hanno cinto si vabbè è giunto il momento ragazzi di parare ad usare il vesper oh dai ok lo vediamo su c ragazzi prendiamo c? io sto su c se mi date la mano la prendiamo proviamoci dai dai j rollo mi fido di te j tu sei forte ma perchè? ma perchè ho fatto così schifo? oh leo ho fatto raga l'ultima sfida di psicosi ora non devo più usarla oh madonna mia che liscio che ha fatto era una scelta quindi mettere psicosi all'inizio si però e poi è rimasta per tipo un secolo poi è rimasta per sbaglio raga quando lo shiny esce dall'acqua sembra che tiri uno sciacquona faccio una quad raga faccio una quad ecco la quad bella ma però c'era il zio not too bad zio not too bad ce li quasi ero quasi dai ce li sono andato vici dove stanno tutti? guardate sopra voi guardate sopra raga guardate sopra c'è uno c'è uno c'è uno c'è uno ci sono io col mio nuovo scaf ragazzi centro ma guarda questo tutte le zone raga stanno prendendo A lasciate di A si qualcosa ragazzi che A puzza però non ti arrabbiare eh Gabbo che se no poi ti fai la mia oddio quantiii oh oh G-Hon c'era la quad jesus è inutile ron king dell'Ellstorm indiscusso ah ragazzi questo è vero ragazzi io ti prendo ogni volta in tutti i giorni bene è importante che ti prendi oddio ne prendo tanti si vedi oh merda raga ma ando stanno mi stanno buttando nooo ci stanno buttando giù io sono concentratissimo ragazzi guardate come morirò questa è la guardiola ragazzi come morirò no Dio raga mi sono appena accorto di essere morto a 9 punti da lui c'è che me l'ha sgamato bastardo te Luca se prendiamo accio later se prendiamo accio later si te lo prendo aspetta nooo sono morto fan arrivo Teo arrivo arrivo resisti i'm dead sai che erano da destra ragazzi per la felicità di tutti voi no ok ciao c'ho le raps vai no come raps adesso aiuto chi è su C che sta facendo il matto nooo ma ucciso eeeh 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 sanguinario vai che sto sanguinario raga grande fio grande fio non troppe di fio hanno tirato giù l'hater ma che finito vaffanculo ma è proprio me dai ma di già oh mi cazzo eh mi cazzo eh prenda pugni eh ecco shy raga ma perfetto eeeh dura tu un secondo e mezzo raga è la stronzata raga sta roba del hyper comunque eh non so un po' con tirare giù cazzo però raga non triplocappiamo sennò è uno schifesco chitro se queste che i frenzi passardo raga è infatti raga 44 eccellente black ops madonna raga adesso eh lasciamogli b non prendiamo no raga lasciamogli anche il doppio capture eh raga doppio per forza raga raga 4 mila spettatori attuali in live 4 mila incredibile che puttana vabbè pensi se ne stessi le donazioni attive raga raga mi salutiamo a tutti quanti e diciamo tra una partita e l'altra e vi ringraziamo per guardare la parità e soprattutto sentire parlare un babbo come me che c'è la voce da transessuale infatti no più che altro deprimi un sacco bomber no raga cioè ma noi no 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 sono la persona più felice del mondo in questo momento ma non riesco a esprimerlo ahahah si cioè sembra che hai tipo una tristezza repressa no raga ve lo giuro sono felicissimo ma non riesco a esprimerlo con la voce si aiuto son succedendo ma b cosa dobbiamo fare più che altro prima mi hanno frullato un cazzo di c4 in fase andy collater non c'ho a prenderlo questo sentite ragazzi il cecchino è la mia vita c'era uno che sta seminando il terrore di un mio subito non ci vanno mai prendendo raga voi mi piacete un tot mi piacete un tot ve lo dico comunque è colpa tua la ma si sta giocando male no anche voi quello c'è il quale centro raga non prendetemi per un po' così dole un po' di più la partita no infatti lascerò lì un attimino no mi fa male no mi fa male mi fa male io vado a prendere a cazzotti tutti ho ma ma appena finisce lo tiro io grande dobbiamo spaccargli la testa con un macete oddio mi sta raggando raga eh visat 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 tirare la mandoschi faribile no mi ha ucciso dire il vero l'ama li chiamava non è che ce l'aveva ma no preciò tra 3 kg aspetta prendi i merito no cazzo ero 2 dalle raps di nuovo vaffanculo ma basta le raps non servono le raps eh raga volevano lasciargli la double cup ma non ho preso neanche una vai ho il visat anch'io ora visto voi che non credevate in me no bravo la ma adesso ti metti l'applauso prima no ma un cucchiato raga io sono carico ma sono 10 kg a 0 però non li trovo io i tizi incredibile davvero sei 10 a 0 guarda che adesso muori no no eh lì sei quello che mi vi visat raga che l'amazon file nooo non ce la faccio neanche a urlare porco 2 ahah lasciatevi qui raga altro visat chiamato occhio su c ragazzi sono nella nave dai raga ero già ero bene a occhio chi è che mi vuole rubare il dominio sulla nave raga la nave è mia quei teppisti l'amma pirata guarda chi sono qua teo io me lo immagino di quel lama con un occhio nero ma solo io non li trovo no ma il fatto è che si ricorda che in estate io avevo messo il come emblema il mio famoso lama di bo2 l'avevo messo su un surf con l'onda sotto ci fa proprio schifo quell'emblema tu fai schifo ci ne sono mille lì dietro però non escono eh lo so raga io sono senza anima ma basta arrivo da una parte e cambia spawn nooo infatti cazzo eh vabbè dai chi chiamano visat chi chiamano visat chi chiamano visat visat nessuno ah se mi mancano due kill raga aspettate li chiamiamo come se fossero tipo eh raga in visat ce l'avete che c'è in visat c'è in grammo de visat raga eccolo eccolo chiamate due visat di fila spesso sono a venti di fila aspettate non ce la farò mai non ce la farò mai nooo cosa avevo li raga lasciateli bi che vedo ecco bene grani non catturatevi per un po' per un po' in ordine maestro adesso che cambio pronta vengo a parare un po' il culo ragazzi questo che piotta come un animale morto non ci credo oh io ho svuotato un caricatore di shite davanti che poi non ce l'ha e non è morto vai nucleare il live di la Muzzi signori vai la Mantoschi vai la Mantoschi facci vedere questa nuclear sono un coglione ma raga io siiii raga 22 lo so lo so ci sono giunto a posto va tranquillo la Mantoschi veramente vai la Mantoschi tranquillo siamo a 22 raga non ce la faremo mai dove sono non guardate la feed non prendere a non prendere a non prendere a non prendere a mi servivano i punti sei un maiale Zamp sei un maiale mi servono i puntoni ma dove stanno è su C lasciatevi prender C si si poi lo uccido però io lo lascio prendere prendete B perché prendete B no 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 sono tutti qua sono tutti qua avanti c'è troppo poco tempo la prima nucleare con joystick bomber si si uscisse a trovarli però grande vai Zio non li trovo non li trovo stavo facendo il bagno in piscina raga incredibile eh stavo ascoltando il consiglio di Lamar riguardare la mappa e non giocare insomma nooo come me l'ha rubato raga non doppia cattura loro la ma ce la puoi fare Zio eh eh se li trovassi un uav no niente raga c'è che stanno tra B e niente abbiamo ucciso ok ecco io qui sono su C niente mannaggia oh sono tutti nello scivolo viola al centro verso C e li ho presi tutti io allora a posto dai Lamandowski di cattiveria proprio pecazzatissimo cazzo si nooo nooo non li vedo non ce la farò mai ragazzi vado subì vado subì vado subì no ma come ha fatto ma stavo tirando l'Elthor non ne ho mai tirato sono ragazzi sono brutale tutti subì bravo mancano 5 zio ne mancano 5 zio dai 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 ma che ce la fai dai sto correndo come un lama da una parte all'altra sto correndo come un cane lama sei corretto raga idolo nooo sono morto 26 nooo bastardo che uslama rozzo morto il lama è cattiveria ragazzi non è giusto non ucciso lama che vita ingiusta nooo NOO aia faccio velo che faccio prendo c tanto stanno prendendo a morto morto ah non la prendono tranquillo tatatatatata eh sono morto la parola ragazzi sono inizialmente un milano per l'hashtag stop alla violenza scuola attraverso capiamo di più si esatto diamo il colpo di grazia sti poveracci ma non mi può prendere con lo sciatucco da come ha fatto a uccidermi con l'e-maker è lontanissimo dietro raga occhio dietro come caccia ce l'ho dietro ho cercato di salvarti ma c'era il lago va tranquillo la mando la prossima partita facciamo lei mi ha rotto il cazzo sto qua che sto prendendo la bandiera da solo lasciami in pace non ti sforzare te è quello che ha ucciso l'ama è sempre lui bella partita ragazzi io applaudo che le mani almeno hanno un suono normale suonano ancora come delle mani normali dai stiamo lavorando bene bravi ragazzi mi state piacendo cazzo capo pensa ad avere un doppio comunque abbiamo superato i 4.000 spettatori 4.100 spettatori siete veramente fortissimi mostruosi comunque a te lo stai giocando col cecchino ancora? si l'ho appena tolto ecco mo l'ha tolto comunque ragazzi far 20-18 col cecchino vorrei sfidarmi non è facile perché dicono la visuale non possiamo cambiarla perché è Delu che sta streamando che c'è la connessione c'è tutto quindi stasera vedete la visuale aprite i culi peggio di Rocco lol adesso Delu sarà le armi e farà il nuclear velo 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 velox la r mi faceva più male alla gola ragazzi c'è qualcuno che ha scritto il tuo nome con l'h finale è proprio un idolo ron oh regà è arrivato il postino ron è arrivato ron ciò aveva regalito per i guardi ah splash di nuovo io direi facciamo splash proviamo top secret se no magari eh no eh no tanto non ci può fare più le volte di fila no regà tanto nel caso dopo quelle che mancano che non proviamo qua le giochiamo tra di noi contro quando giochiamo le sfide tipo skyjacket lo facciamo contro tra di noi nel caso no? ok vero andiamo di riper qua raga ok ci facciamo ancora due partite di quella in pubblica poi andiamo a sfidarci tra di noi ah vediamo un po' le squadre come potrebbero essere per essere equilibrate raga scelta automatica e via io contro tutti io contro tutti le vuoi fare tu? tu tu e tu e tipo lama separati chi? velox e lama separati io e Delu separati no io e Gabbo separati Zampe e Delu separati e allora hai già fatto i team scusa non si può farle che la squadra e no devi scegliere chi va con chi però ma si l'hai già fatta cioè l'hai già detto praticamente ma per così no io l'ho fatto per dividere persone che sono più o meno cioè sullo stesso livello diciamo allora intanto fammi mettere intermezzo che altro Leo Leo è troppo ex competitive player è troppo troppo forte in queste cose ma va che arriva 4123 spettatori signori record record credibile stappa lo champagne si stappa perché ma i like sono diminuiti come? i like sono diminuiti al video che senso? no 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 anche per amma 1200 forse hai fumato dell'hashish dai dai adesso usiamo le armi e faccio più cagare così siamo tutti contenti grandi siamo prenoti raga lavorate per me dai cercate di fare di prendere il nucleare certo ah beh certo ma raga vico già ora ma hai cambiato la lobby scusate non ho notato perché sennò non è vero sono incazzatissimo no sai c'è quello là che è entrato quello fishhop io so incazzato nero moly fishhop non c'era prima questo qua è una scarsezza raga b b b b l'ho presa c io sono su c la sto prendendo e mi ha aiuto ma sei pirla cosa ti lanci si fa così come un maillard con maillard e ho capito anche se ci sono io mica muoio ma l'agante è su b il b è nostra automaticamente sto prendendoci ma morirò guarda tra tre guapo per voi guapo per voi raga foro il triple capture no no hanno già switchato guapo hanno già switchato su a occhio ma questo è 120 ma fai caca dove è questo raga mi sto trovando di oddio con l'incr a uno fermo gli ho fatto la sagoma mi sento veramente una torsera bruza ah no sono 30 anni questi rompono le pace è addosso ok ok fai faccio la sagoma raga faccio schifo non stanno non c'è uno che abbraccio lo che abbraccio al solito abbiamo perso comunque il vascello bucato è veramente una genialata no secondo me la cosa più fine è questa piscina che fa passata anche ciao velo ma io posso andare in giro con noi no no non voglio controllare il cerberus vai via raga datemi un occhio ah il cerberus ma dove sono prendi B prendi B che tiro le sono in C sono in C dietro piscina C vi vinci vi vinci sono io su C raga non c'è nessuno ma dove cazzo stai? no non sono arrivato sono qua rega sono qua oh merda come Ro? non ti sento alza la voce aaaaaaah ma non ho sentito bene non l'ha fatto eh devo dargli una mano a urlare devo dargli una mano a urlare teo teo quando quando devi urlare dimmelo e urlo io al posto tuo facciamo così dai raga sono in feed sono a 3 kill di fila sei in feed feed ha piccato e non li trovo raga io ho 60 punti al visat morirò tra 3 2 1 e ho fatto una kill dai lo preso una no lasciatemi una bandiera con una porta mi dice l'hanno mo se piano B laaaaaaah tutte le zone conquistate tutta sta fatica per cosa mamma mia dripla di G.A.B.Squared G.A.B.Squared rotto l'ultima eccolo qua grandi bravi get the mood però adesso fateli per gli alleati no grabo che cosa stiamo facendo veramente ero io però comunque mi fa piacere che riconosci che ci vedi soprattutto pensavo fosse gamba di square sei grasso e basta gamba di square ecco al centro raga occhio vedo e l'orato bravo zio no dove mi ha ucciso ho trovato il tipo che batte le cose raga si chiamava mister black no no puttana merda raga hai finito tutto quanto però ha finito la fantasia e l'entusiasmo no tranquillo basta che guardi la mappa ti ritorna tutto diventi felice anche io potrebbe tornare indietro da sotto no dai non crei pasto stu lasciate gli c ragazzi lasciate gli c se arriveranno subito c ok eccoli ma son tirato qua sicuramente si dai sti alcolisti amici tuoi insomma ah cazzo non ci possono buttar più ma come sei messo lì che sono in feed zapp c'è uno che si è incastrato malissimo non so dove dove eh lì davanti grande a chi è in sede raga io gabbro eh io sono due ambo sempre in sede ragazzi ci affritta tutti due zapp io sta partita sto a farlo scambiabare oh non l'ho visto cinque kill mi stanno buttando giù later eh sì quello là in fondo è stato ucciso io quello che ti volevo buttare giù later che non ci riprovi più al nostro gabbro gli schemi dai ma marca merda l'anno 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 ma non stanno quittando ragazzi è una mia impressione nooo 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 abbandonano soltanto la partita non quittano ma nemmeno riesco a trovarne uno ma si quittano ma la data posa prendi velocici vabbè dai buono rega io e gabbro senza morire il primo round dai cazzo 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 è sempre tipo il vecchietto che guarda i cantieri in costruzione andiamo al cinema ma in costruzione per me quel tombino lì andava fatto due metri più a destra raga raga sapete che io ho un lubrificante per mantenere meglio il giustico ma che cazzo appena hai detto lubrificante basta ma non è un lubrificante è il contrario ha l'effetto opposto ah grazie che me l'hai detto così evito di fare figuracce ahahahahah ahahah su A ma che cazzo sono? no no raga lasciate gli A c'è tutto lasciamo ok mi fanno pena io un altro vissat dite di quando oh raga sta urlando ronna ah dite di quando devo chiamare i vissat raga così mi chiamo i vissat stupidi della storia vabbè ivy? cosa dei pokemon? eh? dai oh chi è che li sta uccidendo? ma mia ragazzi quanti ne ho fatti vero ma lasciateci raga io resto fermo qui in un punto e spero che qualcuno... no raga stavo morendo fuori dalla mappa che è ritardato prima sono morto così io pensa allora sono ritardato grazie non trovo più raga sto tutti sopra questa cazzo difficile oh sono morta la cava eh per un secondo sto lucendo io ma ti cazzo sono qua? sono troppi tipo vabbè non muore! ma che cazzo è? no gab è mica morto non dirmelo così no gab è quanto dice zero raga aiutatemi su C mi prendo aaaaaaaaa sono arrivando ma io con le mitragliette non mi ci trovo raga porca gioia aiutaci dai nooo mi sono su... che ritardato che morto è stupidi raga mi state fottendo tu senza anima quanto è raga 15 15 15 0 c'è qualcuno qua? c'è qualcuno? c'è qualcuno? c'è qualcuno? c'è qualcuno? raga, dobbiamo prendere B attorno a 140 punti ragazzi, veli fate tutti da dietro quelli la? ah no no raga, bisogna andare a prendere B raga prendi B prendi B prendi B cazzo nell'altro sto... raga finisce, finisce al volo perchè hanno fatto un sacco di punti d'oro qui non lo tengo prendi, prendi, ti copri,oh, ti copri,oh prendi,prendi... credo di copri ti copri dall'altro speravo di prendere... aspettate, aspettate, aspettate aspettate voi in stream fate finta di non aver visto Non stavo lanciando frecce a casa in mezzo alla mappa Tranquillo Oddio c'è uno i night glitch dietro dentro C'è Jeff Finito i colpi Regà mi serve un'arma Ci stanno in giro Ce l'ho io Ce l'ho io Ce l'ho io Merda 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 mi serve un cazzo Ci sono 4 A e i bici Questo è un riciclo incredibile di roba Gabbo 18 attenzione Guarda cosa c'è qui Guarda cosa c'è qui Guarda la scoreboard aperta proprio in diretta Guardate cosa c'è qua Ha visto il numeretto passare da zero E' guffata idria Cuda dai Ho raccolto quello Mi hai salvato la vita lama Mi hai cazzo salvato la vita Ma dove stanno porca puttana No Che schifo sta partita che ho fatto Io ve lo vincevo che urlavo eh Ma che cazzo Vabbè prendi un attimo il posto di Ron Guarda come mi ha seccato Zampo fai schifo Fai schifo Ma ero morto da triunfo Ce l'avevi lì Un sceno E' che ci sparo Atta cagare va C'era il Cerberus Ero io tra il Cerberus Ho ucciso me Che guardava il Cerberus Comunque sono rimasti il 2 di là Quindi mi sto partendo Anzi uno Ragazzi io con Vesper non mi trovo C'è il troppo rato è troppo alto Eh Vesper ti devi fare l'abitudine zio Non è facile Dove vado Ogni tanto devo fare un po' il vecchietto Che fa i gargarismi Beh raga io adesso vado a giocare un po' con le palle qua Con cosa fai giocare? Rivelazioni scioccanti Capo di squerdo non è quello che sembrava No stavo uscendo dalla mappa Scherzavo Aia ma l'ha ucciso Codo Dove sono? Nella Cambiamoci Codo Raga ma uno adesso non li chiedo tanti Uno Ma raga io non li trovo più questi Sono tutti i due Io sto correndo in mezzo alla mappa Questi raga Eh ma raga Ma dai ma stanno in mezzo le penate Ah sono entrati raga dai dai Onano su A eh In continuazione Non rinascevano anche se spawnavano Non lo so Raga oh Velo Vai Andiamo sul Katoon vai 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 No 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 Che cazzo stavano facendo Progo dove sono? D'accordo ma raga ci prego Troviamoci tutti qua Da è lupo Gabbo che dietro Gabbo Grazie Vai vieni Bomber Ma può partire? Ah no ok mi stai prendendo per il culo Però funziona Vediamo chi c'è Cazzo Poi non riesco più ad uscire Come cazzo Oh c'è quelli zarli chung 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 che non riesco a uscire Ah ok Non riesco a uscire Ok Cazzo Gabbo mi sembra No raga mi ha ucciso Ma mi ha ucciso dopo che ho fatto questo Grande Questo Questo No Bellissimo Oh cosa succede? Ti ho fatto un health shot? Aia Ma l'hai fatto anche tu Ma che cazzo corri sul muro? Io ho tolto la modalità tattica Sono andato alle spalle di un nemico Non sapevo come uccidere Attimi di vuoto E poi queste cose Oddio Ho ucciso già il felice un kung kung Secondo Spara spara col tuo enorme cazzo metallico Che cazzo Che cazzo Ma raga ma perché sono tutti dentro ma uno soltanto che respawna Eh raga non ne vedo mezzo di questo Cioè non sanno cliccare dentro Raga c'è questo che andava fuori dalla mappa boh Hanno deciso di quittare nel senso proprio Ma sì no veramente non ce n'è più nessuno No ma raga ma tu nemmeno Eh ce n'eran tanto O c'hanno tutti i fantasma Boh raga io adesso vado a guardarmi un bel video su youtube Ciao Gabbo Ciao Bomber Ma com'è che sei tutto d'oro? Com'è sta cosa? È finita Va bene va bene Ah hai fatto la challenge lobby eh bravo Gabbo Va bene è finita Bravo Leggiamo un paio di commenti Leggiamo un paio di commenti Ottima prestazione del giastino comunque direi eh Non muore mai lui Qui invece stanno dicendo che hai fatto un po' schifo Lo so lo so Era tutto per automotivarmi tranquillo Ah ho capito ok Però la voce non ti ritorna allo stesso tranquillo No ma quella mai nella vita Ah non ci speravi proprio Stanotte Non potevano nascondersi da me Ho capito Ah dio Io direi di fare l'ultima online Sperando di trovare un'altra delle O gauntet o ijacket O ci iniziamo già a sfondare Non so No voglio ijacket prima Ma chi è questo che c'è? Sì ma comunque regà 4244 spettatori mostruosi Sì siamo arrivati a 4300 ragazzi Allora salutiamo intanto tutti quelli che stanno guardando la streaming Speriamo che vi state divertendo Incredibilmente Dai la prossima solo cecchino così No no tranqui Cosa vuol dire? Mi ride Cazzo Vabbè io apro L'asperina ci ha Gauntlet Gauntlet Questa regà è vera Gauntlet che è lui E poi andiamo a fare Un 3 contro 3 Impostazione Skyjacket Ho trovato la provocazione del battery leggendaria ragazzi troppo forte cazzo troppo forte Ah raga che sono messo in privata si possono mettere le impostazioni la per competitive Quindi giochiamo con le modalità competitive No vi prego queste cose mi fanno del male Posto io in privata ragà Eccolo che deve sempre usare Tu non lo stai capito male No l'arma c'è già sciotti Siamo tornati agli 1v1 su spedizione di cazzo Non c'ho stando Deve stare sempre Ron Con quella voce poi Escolta non c'ho voce almeno fatemelo stare Ron ho sta il culo per stasera Quello l'ho fatto a mamma ogni notte Attimo di silenzio E poi la butta lì E' tesserato J Ron Il club mamma di zamp C'è lo sconto amici C'è lo sconto amici Molto compromettenti in chat Tipo Ron ti scopo Ron la tua voce mi eccita E tutte quattro Ovviamente Quali problemi Tutti i commenti di maschi E la cosa è un po' così Però vabbè E vabbè Una squadra fortissima Chi va per il nucleo 43,15 spettatori Grande Ho dimenticato la tag raga 86,32 Domino Allora tu vi consiglio una R Ragazzi questo è per voi Grazie Ora mi sono liberato CDP Coglioni di porto Dai prendiamo l'ultima In bello Prendiamo tutta Tutto dentro Diretti su B Daglie Dai vengo anche io su B Dai ho deciso Dai Ramadoschi Cos'è la prendiamo? Vediamo solo di te Contatto Manorato Credo che salta su B Spara nel frattempo Dai lo uccisi Dai raga prendo B Prendo B Non morirò mai Tengo dati la mano anch'io zio vai Raga la prendo La prendo La prendo La prendo La prendo Lo prendi? Bravo E' nostro Cosa prendi Lama? Cosa c'è di dire? Oh E' chi? Mangione per la Ragazzi sto andando pianino Piano Cosa mangiare in la Mald Cosa mangiare in la L'erba E qui risponde Zamp Qua sono? Stanno tornando su C E' mio Stanno andando su A E' quello il problema Raga ma perché Zyfe Non quinta che lo sto Guarda con la mia stessa pistola Mi uccide E tu Ok uno arriva da qua Serve supporto Shit Stavo bene Che mappa strana Ragazzi ma perché Non trovo mai nessuno No no capo Non ti arrabbiare Cavolo Filippa sta Occhio che è in fondo No non ci credo Oddio Dai non ci credo Ne ho bloccato a terra No ragazzi Sto andando lo spawn Rai fi Raga dai Lama prendiamo No 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 Espolano qua Scappa scappa Non troppi cazzo Sto dietro di te Velox ma ho il cecchino Quindi non so Quanto posso dare No vabbè Infatti ciao C'è ne sono due Raga una a V Qualche cosa Certo Dai Ragazzi io non voglio Sono già in tre Sono rimasto Io non vorrei dire Mi mancano 70 punti al Vsat Vediamo come muoio tra 5 Sono rimasto No 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 arrivo Lamandowski Infaccazzate Sono dietro di sé Eccolo Non so come ho fatto a vederlo Però l'ho visto Rai No L'ultimo Grazie Ho salvato Mi piace il fatto Che chi entra Non sa che c'è il Vsat Ragazzi No sto casendo nel burrone Che sta andando su A Stanno tutti spawnando su A Mi pare Perché Ovviamente io ragazzi dove sono Su Sì Ahahahah Eh Oh Ciao Zwamp Eh hai visto Zwamp Cazzo Zwamp Sei troppo forte Che è la lama di merda Ma sto qua ad aspettarlo Che arriva Perché mi esci fuori a rubarmelo Eh Tempismo Stanno tutti andando su A Il Vsat è finito il Vsat Oddio C'è finito Vaffanculo Mentre le loro vattuali E vengono a vallare di ci si illumina In attesa di ordini Eh ma perché cambiano gli spawn Poi cazzo Non è l'erba raga Siamo troppo forte Occhio Erba 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 Dov'è Cazzo però è facile dire dove sono in sta mappa Dici praticamente neve erba acqua Cos'è tutto E ovviamente Zwamp È una mappa per allenare il collout E Zwamp dove sta sempre ovviamente No io non so l'erba L'erba Adesso No Zwamp Sono nel centro urbano A comprare l'erba Ma è vero ma basta Non diciamo fesserie Occhio albright Ma non diciamo corbellerie per favore Oddio ma dove cazzo è Oh io ero ucciso solo senza mia Questa partita Ve lo giuro raga Io non riesco a trovare nessuno Ma neanche io Dove cazzo stanno Ma quanti sono? Sì raga sono entrati Sto tanto dal livello 200 Però ho fatto la kill cam Eh catta Lo devo fare io però Cazzo Non down Gabo Ah regà la faccia dei prestigioni contro O sono entrati adesso Sono entrati adesso Sì no Ok Sì no 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 Sì è nostro Alfa è in mano nemiche Sì sì quello sarà Non volevo scusate Mi è piaciuto l'urlo Vero? Volevo imitare Ron Non erano due Erano due Non ce la farei mai imitare la mia bruttissima voce di stasera Madonna dio come si è messo quello Madonna come l'ha messa dentro Ma che notizia Raga ho paura sono in mezzo all'erba Mostrami Mostrami la testolina che guarirò tutti i tuoi mali Vieni qua Non muo No regà MC Cora è pazzesco Preso alle spalle Ma dai ma non è morto nessuno Stavo cherzando Ce la vatti ecco Io Stavo sparando Sta quasi facendo addormentare questa Erba ragazzi sono tutti erba Guarda Zappa come corre Iiuto Erba arrivano Questi sono strafatti Wavì C'ho la shite dai C'è la shite 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 Oh my god Sta morendo Ma mine god No E' ucciso un altro Non è UFC eh Dab veloce Strafatti Fum 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 Non ho preso mezzo Fa culo Io non so passare da un posto all'altro E' sotti nell'erba tutti Non so dove cazzo andare Ma perché sono sempre sottile L'erba presto Eh te lo chiedi pure E' più che altro Guarda io prendoci da solo E basta non riesco a uscire nessuno Guardate però le texture di sta mappa Sono proprio fatte bene Sì Vero vero No Sono caduto nel culo Oddio Oddio ho fatto una provata Mi sono accangito una parecchia di ghiaccio Sì Davvero Allora sei forte Ciao Gabo Allora sei forte Per fuori combattimento Ma sono tutti su A o cosa? Un po' si Raga lasciamo gli una bandiera però Un po' ovunque in realtà Dai che sto a 30 dalle raps Ah vabbè però io sono sempre nell'erba Come facevo se quello è che ero lì Oh No Stavo grattando il naso Cosa stavo facendo No raga Raps Gazzo Gazzo Ah vabbè raps in arrivo Dai dai Ah 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 Hanno catturato A Ce n'è uno nell'erba Preso Maledetto voleva rubarla Bastardo Non avrai niente Del nostro raccoglio Voleva fumarla hai detto Voleva rubarla Ma non avrà niente del nostro raccolto Bravo Velox Ma hai salvato le chiappe C'è un altro Un altro Un altro là dentro la porta Preso Vedi 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 Spanono dietro Non avanzare perché sto tipo tutti fermi Unstoppable Ma dove sono pericoloso Sono infermabile ma le mie raps non hanno preso uno Nell'erba non c'è nessuno eh No sono io nell'erba ovviamente non c'è nessuno Madonna quanti edilici ci sono al lato della città Cazzo Oddio raga non sto a mori più Ecco sono morto Che te Che hit proprio eh Sì vabbè Ma torniamoci raga sono a 80 punti da l'hater Sì vabbè Ma torniamoci raga sono a 80 punti da l'hater Madonna sono tutti subire che aiuto Dai fatemi prendere sto hater Abbiamo perso Bravo Gabbo Adora Madonna questo Black Ops 3 come me lo fa venire Cazzo c'è un tiro al piattello Mi sto spaccando di botte Morite Guardalo com'è felicio Tata 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 Crepa Uuuu damn E' finita E' finita E' finita E' finita Anche qui Buona 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 Ragazzi Zerf E' del doppio finale Finisce con 0,59 Incredibile Mamma mia Non stavo mirando eh Se venissete accorti What a playa Signore direi basta con le pubbliche perché iniziano a diventare pallose qua Ci rompiamo un po' il culo Allora Vedi chi osta Osto io E le squadre le faccio io Guarda Guarda Osta lui No 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 Osto io e le squadre le faccio io perché ho la voce più brutta Perché Gabbo Io squadra con te Io squadra con te Gabbo perché hai commentato di rarti a te Allora Io direi che Potremmo fare Aspetta aspetta c'è un commento per Ron Ron mia sorella si è tutta bagnata solo a sentire la tua voce Ma non è vero È palesemente falsa la cosa La scrittoron con l'altro account Allora Diciamo Non lo so Dai fatele voi le squadre Che se vuoi dici che Prende i giocatori migliori Poi gli altri si offendono perché non li scelgo Dai regà Ho due Fanno i capitani E si fa la squadra Dai Lama il capitano Dai vai vai Ci sta Pari dispari Fa vedere le mani Fa vedere le mani Fa vedere le mani Ah cazzo Eh allora Va bene dai Io mi prendo Io mi prendo Gabbo E Jump Dai No Va bene va bene va bene No ti sto lasciando Ron Dai Va bene così Va bene così Leo Non ti deluserò lama Questo è per gli alpacchi Mi hai chiamato Gabbo Non ho capito Quinta però Albe Albe quinta la salope Entrate da me Sì dobbiamo entrare tutti da Justin Ah c'ho la nostra squadra Così mi piace Eh Chi è stato Chi è stato Chi è stato Eh Lo fa una classe raga un attimo Che devi fa La classe Oh su Skyjacket no C'è qualcosa di proibito È tutto Se facciamo le cose competitive Vediamo No io voglio mettere il cecchino Allora aspetta Fate fare la classe a J-RON E tutti facciamo quella Ma infatti si Usiamo tutti la stessa classe La stessa arma tutti quanti Sì 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 Ma fanne due Una con una R E una con un SM Metto una R E una to Eh regole il sport Metto la gamba Se l'ho rotto il ginocchio in live Ragazzi Metti il Vesper e il mio toro No il Vesper no Aspetta che scrivo le due squadre Tu dai Oppure oppure VMPM Guarda che VMPM Ma guarda che VMPM è per eccellenza Ma scusami Ognuno non sarà può fare come vuole direttamente Basta che non Non ci mettiamo le cazzate Se facciamo due classi Ognuno Basta che non vi mettete le puttate E siamo a corsa Dai dai va bene Valsicota che cazzo che volete No no io aspettavo Non posso Non usatele stordenti di prego Non la fai tu quindi Valsicota Lo che è stordente Valsicota Okay ah k È non è buono E faccivi per tutte le cose Eh farming Ok tueche ore E' fare cella E' fare cella Dai fare l'abbei Tutte le armi Tutte le armi Tutte le armi Tutte le armi Arrivo arrivo che mi avveneno E metti il prestigiatore E' strazzi rapida Sì si è tranquillo E' dire se che gli fanno Una col col VMPM Una col VMPM anche lui, il mette anche il tetto è tutto uguale, ci butti un po' di accessori e via siamo arrivati a 4.300 spettatori tanto mentre faccio le cose voi parlate con gli stessi incredibile, ciao a tutti ciao, piacere eccomi che mi son perso hanno massacrato la regina Elisabetta a mia assenza magari ma no perché poverita screzzi a parte le sta facendo Ron quindi in sintesi si si mi ha chiamato ai guardi è arrivato al postino mi ha dato un regalino per i guardi basta mi consuma a metà delle corde vocali a fa sta cosa ah una cosa teo strict ce le mettiamo pure lisci così lisci no le mettiamo le mettiamo vai con rxd attacco fulmino e hellstorm mamma mia la malagante ragazzi il contrattacco non è bannato però c'è sarebbe meglio non la malagante il primo prestigio la malagante il quinto prestigio quanto tempo era che lo stavo in squadra con la malagante 6 anni l'ultima parità l'abbiamo fatto insieme era su mv3 minca non mi fa la merda no vabbè forse anche su quelle caps 2 vabbè leggete un paio di commenti raga dai su su si aspetta che apro la stream allora il primo commento che vedo è gabbo vai maurizio no ve lo giuro eh air post man air post man zampo sei un tossico zampo è drogato incredibilmente pene viva la figa direi che c'è una varietà direi che c'è una non dire le parolacce se no chiamo la polizia gameplay con la pistola ah avevo letto uno prima che diceva oltre a fare postazione gioco delle armi eh ci sta volendo anche si il problema è che poi è il tempo scarpato c'è anche da fare zombie ah infatti la gente mi scrive tra quanto cioè mi scrive scrive nei commenti tra quanto finisce la live in teoria dovremmo finire per le 11 ma penso prolungheremo prolungheremo un pochino però non avete cazzo che tanto a scuola segate sempre tutti perciò se andate a dormire mezz'ora più tardi no teo ma se fai tu le classi non posso mettermi la mia bastarda col sistema trophy meglio tanto non ci sono granate cazzo ah bene dai teo dai teo ho finito ho finito ho finito ho finito ok 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 tac 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 ragazzi ho fatto quattro in trenta secondi cioè non è facile eh no infatti sei fortissimo in genere eroe dovremmo fare una statua noi a gesto come quelle dei presidenti scolpite sulle pareti rocciose delle montagne degli indiani uccisi ok ci siamo sudiamo ci siamo ci siamo cambiate squadra potete farlo no devi abilitarlo tu oh figa erano è tipo dio è tipo dio che distribuisce può fare tutto quello che vuole agli uomini ma perché tu ti corruina ragazzi sentite questo commento interessante ti prego Ron inculami ma Ron ce l'ha lunghissimo ci ho sperato davvero per un attimo io l'ho visto il cazzo di J-Ron è qualcosa di inenarrabile non può neanche parlare perché dai ragazzi fate zitti però Ron e Velox insieme non mi piacciono tanto ma l'alternativa è cattiva mi sono sacrificato per il bene della squadra è vero ma se metto competitive se volete facciamo io e Velox contro ma perché facciamo io e Velox contro quattro non lo so sta qua era cattivissimo come se la sente no no perché allora ragazzi voi sapete noi dobbiamo fare abbiamo fatto anche su Black Cops 2 le sfide dei lama che consistono proprio in queste cose qua quindi siamo abituati a giocare in coppia stai zitto guarda la foto che ti ho mandato intanto adesso la guarda vabbè sta venuta una merda oh cambiate squadra ma come ci fa L1 R1 sono grazie io faccio il cast ok ci siamo no Leo no aspetta ok vai ci sono volevo commentare questa classe è venuto nel caso che classe hai fatto Deo non lo so più che altro basta che non c'è il Banna in protetica all'inizio che se no è un casino mamma mia ho detto tranqui 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 mo facciamo in fretta Deleu Banna proteggi proteggi tutte le altre proteggi tipo il Cuda proteggi il vesto no 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 capito come si fa fermo lì cassa l'arma e fai protezione proteggi proteggi porteggi porteggi tutto quanto che cazzo è sta l'arma è la nuova roba competitiva in arena proteggi proteggi tutto proteggi tutto così non banna proteggi basta prendi una cosa a casa e proteggila così almeno io non ho cambiato un cazzo di streak niente ma vai vai zamp io proteggo dov'è che sta non la trovo raga 4600 spettatori grandissimi incredibili credibili cattivissimi no non sceglie specialisti raga dai che figa aspettate mi metto che c'è da prem ah è vero ah è vero il secondo sto scegliendo raga cazzo prendi mimetizzazione ho premuto il primo che mi usciva sei stupido come un banco deluxe la mamma mi ha capito al volo sta zinto ah no sei andata io penso il puri partito fuoco bastardo vedremo vedremo cani rendaggio quasi fa quasi fa incredibile ragazzi sembra quasi seria fate accettate 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 tanto guardi una caccata ma si poi tanto sono predefinite quindi si dovrebbero essere le prime quattro che trovate ok ragazzi io vi spiego la mia tattica io sto giocando non mi castire i punti eh togliete di luar ma che casino è figo ma che casino vai lama tocca te ok così c'è allora il ping di lama è più basso dei suoi sconti con gli scuf anche perché il suo codice sconto non fa sconti non usate in realtà pagate 10 euro in più ragazzi no comunque stavo dicendo ragazzi io vi spiego io sto giocando per gli obiettivi quindi potete uccidermi quanto volete tanto io gioco solo senza sparare per gli obiettivi praticamente ok allora ragazzi chi di noi fa allora Leo te fai il ragione no a parte quello che comunque non cambia niente rispetto al solito ma tu fai lo slayer e io e Delu facciamo gli obiettivi direi non dire parole strane che poi mi sbizzarrisco dai e cazzo questa sfida leggendaria mi sbizzarrisco dai 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 siamo in streaming con te non farci fare brutta figura go let's go tranquillo morirò subito per primo siamo dentro ce l'abbiamo ce l'abbiamo ecco c'è il fuoco a minco Gabbo 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 no ragazzi Gabbo è entrato in Gabbo mode ho paura silenzio Gabbo mode signore dai figa ah non lo so non è easy se questa sfida torna ai tempi di bio 2 cosa che facciamo squadre vuol dire bisogna farlo impiazzare Gabbo 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 fai schifo fuori velo dai chi figa è J-ROM e host si vede ma stai zitto insalti da fuori le scuse bm ma non è vero niente è come tornare a code 4 sempre una merda dov'è sono incastrato sono in tanti qua dentro santa madonna santa madonna è la prossima zio ma è la prossima zio dov'è non la conosco non conosco postazione come funziona come è in tanti angoli piangoli mai giocato a postazione sui giochi è sempre quello l'ordine dai ma basta perché nessuno mi guarda mai le spalle fai culo stavo ricaricando dio ma donna bomber bomber arriverà il tuo firex teniamola no è rx no bastardo non l'avevo più sentita arrivare non è sempre domenica chi è quello no gabbo ho smesso di sparare pensavo che fossi morto bastardo ciao gabbo no maledetto stronzo ma da dove da cozzo dove da dietro maiale tanto dio no regà è tesissima questa è come la corda ad un fottuto violino grande teo grande teo no cazzo quasi il penultimo vai la prossima vai la prossima eh dov'è dimmelo coordinate coordinate down 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 ah non funziona così cos'era quel verso eh ha detto down chi è questo che vola maffanculo velox c'è anche il burro guarda ancora lì oh qualcuno mi ha tirato una testata l'ondata di calore della merda gabbo guarda che eh dimmi bomber madonna madonna ai 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 dai reggiamo 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 raga no che schifoso zamp sei un porco ma perché no raga ma è difficilissimo guardalo che schifo il punto è che non posso dare i dai son di merda stavo volando vai la prossima raga dov'è dov'è ma dov'è la prossima non dirmi down perché non voglio più farlo sto parlando con il mio team cioè velox che capisce vai 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 ma me ne siete studiate lo so lo so dov'è chi è quell'ama madonna maia da dietro bastardone ma cosa quello stesso lì dietro è velox maledetta merda vai leo vai leo c'è l'ultimo c'ho le streak raga dai lo odio lo odio e se dovevi infilartele anche ma guarda sei un maiale zamp sei un maiale io li faccio tutti no ragazzi sono dentro vai teo vai teo è la cosa giusta tu ma la prendi mi ha passato rompetemi le palle adesso non ce la faccio non ce la faccio è pazzesco perché gabbo mi ha ucciso gabbo no ragazzi ho sbagliato un streak ho preso l'elstor ma vaffanculo perché l'elstor piace tutta quella roba lava oh lava è indistruttibile basta inrompi inrompi cazzo chi è il carico prossima rega la prossima un pugno la prossima è proprio al centro mi sa al centro al centro sì sì dovrebbe essere al centro dai ragareggiamo eh dai 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 colpo di tacco no il guardian dai la mandoschi la mandoschi non diamoci per vinti no chi è quella merda che ha messo il guardian che dovrebbe morire per venti il gas è stato ron è Leo è Leo grande Leo cazzo no velo mica se faccio schifo si vabbè Leo non ho capito chiamali i cosi qua dal cielo perchè è fuoco amico eh io devo ascoltare i consigli che mi danno in chat perchè già non so giocare con le armi poi c'è aeeh minchia Delu 10-18 ah ma è sparito raga guarda guarda intanto non posso non posso riuscire a chiamarli Dio mio perchè io è vero che stiamo carriando io è vero che stiamo carriando qua cazzo te Delu devi fare una cosa entrare in posto ho capito io mi frullo dentro poi che cazzo faccio vabbè bravo te entra e frullati l'ultimo raga c'è solo zam no buona 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 ti ho visto poi mi ti zessere troppo tardi questa è la sfida del secolo eh raga facculo velox raga vieni la sua dietro c'è il guardian in mid stanno passando là push di front push di front ma chi è il cane ma basta quel guardian chi cazzo è guardia non va mica via è infinito ragazzi cioè da inizio partita c'è da inizio partita ah ho sbagliato pusharli così dai dentro ancora dentro ancora zio che cazzo ha usato che non vedo più niente no c'è gabbo ragazzi gli dai un colpo a destra bravo era a destra guardalo come entra con per fare bravo stazione raga io vado già next io non ho capito voglio sapere quanti caricatori ha nel suo cu da velox no raga oh porco capo madonna dai guarda rodo dove cazzo piacerebbe zio comunque la ghiacchia un po' il tuo osso un po' dai cazzo se camperi ron madonna che giocatore scorretto no io ti ho chiesto dovresti essere bannato bannatelo quest'uomo ma che cazzo non vedo una sega non vedo una sega eh vabbè leo bravo delu bravo ti ho dato sette colpi mila colpi buttai dentro e campera delu dai nell'angolino rondi è postazione ragazzi porca troia io posso contendere fino a che posso ma ah gabbo di merda a cagare va ragazzi 15 secondi giriamo tanto ma perchè solo me uccidete devo gabbo mio dovere oddio no ragazzi mi ha fatto spawnare a fanculo non potevo nulla lì infatti se mi prendevi da lì oddio zap dal centro no ragazzi arriva dietro zap l'ho visto no zap dai ero morto non è che sei forte anch'io ero one shot firla aperta veloce oh ragazzi si corrono tutti là dietro macchinetta vai teo vai teo vai teo bravi 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 aspettate un po' aspettate un po' qua mi diverto no lama da sopra lama da sopra cazzo mi ha dato fuoco vacca troia storio si cae velo storio si cae un botto storio tanto è morto anche lui perché sono spawnato dall'altra parte della mappa e te pareva che se stava fuori quando smettevo di mirarli eh vabbè ragazzi centro mappa centro mappa vieni cazzo per un pelo per un pelo da dietro eh perché si è spawnato lì io schifoso no ho fatto tutto il giro ho fatto tutto il giro la postazione è nostra ma guarda il lama si mattina si fa bene al felipo ma hai rotto il cazzo eh zappo mi odia ragazzi odio ma non so lui mo divento una bestia guarda eh oh è morto velo raga che è successo oh che peccato cazzo parla in modenese anche zappa io sto scendo di testa ragazzi stiamo perdendo guarda te con sti cazzo di salti oddio madonna velox ah sta muori non posso dire che non riesca a farmi chi di fila non muore non è una cosa che mi piace fare oh dio ragazzi sono due no sono z3 vabbè dai dai ragazzi che non è ancora persa maledetto deluxe ah è di qua è questa sì vabbè dai ti sei girato ma è ucciso dai ci sto io teniamola questa la voglio eh ma porco no ho ucciso deluxe ci sto io ah perché c'è fai il fuoco amico sì sì ma poi ti può lagga un po' tra l'altro non mi accordo di ma dai ma che uomo di merda mamma mia che collaborazione ma tutti da dietro tutti così ormai non sapeva che la mette non vedo cazzo eh no la lama con la blondata cazzo si vabbè io come al solito vado a mirare a quello più lontano vabbè fai sotto Gabri Gabri vai già sotto vai già sotto arriva da becca arriva da becca no ho sfregato il culo ah fa culo velo oh le ti segno ti segno ti segno guarda Gabri fai schifo fai schifo fai schifo dove ti sei piazzato ecco vabbè dai rom con le macchinine ma quante macchine ha? ma penso che era il Gran Turismo so veramente ne ha 8000 regale ho collegato da quando sono piccolo ahahahah vai regale dai velox è mortale però regà ho ucciso lama è l'unico gioco dove può usare le macchine e non essere addobbato da me ecco perché ha usato le macchine c'è teo one shot giù eh sì infatti si vabbè anche io che vado a fare ma dai ma avete tutto il cazzo è finita ormai no merda guarda eh guardi chissà dove l'ha messo madonna che falle già me l'immagino eh intanto 10 secondi è finita mantenete bene postazione acquistata colpo fulminante alleato in attività no il cardian all'ingresso goto goto attenzione no io con il cardian là è stata una cosa cattivissima vabbè e finisce qua incredibile come le ossa rotta la raga io sono rotto buona rega lo testo non so quel cardian raga proprio l'ingresso eh c'è uno dietro che non è morto non capito perché l'opzione è cioè facciamo una rivincita ai zombie o tagliamo subito su zombie taglia subito taglia subito tanto vinciamo noi tranquillo uomini di merda questo silenzio mi dice solo una cosa ecco cosa mi ha detto sentite l'amicizia con questa partita madonna io ci lavo i ziii vuoi uccidere tutti ai 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 aspetta ma che cazzo ah raga what what are you doing ciao da ciao da si si hai visto teo si oh quanto è bella la vita raga mamma mia quindi conclusiones conclusiones andiamo su zombie no perchè sei troppo fortis è ovvio addio non ce la faccio più mi è finita la voce a te lo dice lui lo dice madonna ma Ron voglio essere stuprato dalla tua voce allora andiamo su zombie raga eh si dai chi vi abbandoniamo chi vi abbandona io e lei vi abbandoniamo ragazzi eh boh si magari facciamo noi una zombattina così l'ultima mezzoretta si si che l'abbiamo provata anche oggi pomeriggio tanto noi dovevamo provare io raga sono numero uno su zombie ah immaginiamo io non ho mai giocata quindi morirò sempre ecco perchè tu non mori mai tu non mori mai ogni volta te lo devi giocare la zombattina scuola dai 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 poi 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 chi chi invita oh beh facciamo un'altra golle che registriamo quella cosa vai vai si si raga salutiamo tutti quanti Leo e Lama li ringraziamo per ragazzi grazie ragazzi fateli voi lì i saluti che non c'è più in voce eh si ragazzi però io stavo stando la chiamata vabbè io mi muto dai tanto bella mezz'oretta e finiamo si 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 ciao ragazzi io mi muto e toglielmi le cuffie a dopo ciao 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 raga ciao grazie entrate da me entrate da me voi raga su zombie yes gonna join right now non mi fa gioinare aspetta ah ok adesso vai non mi fa ancora gioinare allora aspetta ok Valentina Vignali ha caricato una nuova foto ah beh che foto ha caricato è una con le tette wow in tutto questo mi spiegate come funziona un po' la nuova mappa eh allora facciamo praticamente funziona che devi sparare solo vivendo ah ok va bene allora dai preparo il una buona mezz'oretta der heisenach der heisenach adesso sei anche il tedesco ok e andiamo un po' a vedere com'è questo castellino nei dintorni di ah fan no devo dire comunque che so veramente cioè è un bel pacchetto questo eh secondo me no raga cioè le mappe sono tutte e quattro bellissime secondo me per la prima volta forse mi piacciono tutte e quattro forse quella che è un po' di meno gauntlet ma perché è troppo grande oddio non l'ho mai fatto raga che bello allora zamp dimmi allora ron delu siamo pronti il primo round ovviamente si si a coltelle e basta ok quello ok quello come sempre vabbè zamp spieghiamone con anzi gabbo spiegate il postone perché io non c'ho più voce sì sì no vai tranquillo adesso tu basta che a coltelli tutto poi dopo io e ron apriamo le porte che tanto in due prima ce l'abbiamo fatta da più di tutto tu dai la prima volta è vero sì no 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 è la seconda volta ma ci sono ah perfetto sono un attimino confuso sono un attimino confuso che mi colpisco da solo pensa a te che banco allora facciamo una cosa raga io apro già qua così possiamo già andare su dopo ok zamp io ti consiglio di prenderti il krm dov'è? eh appena esci allora adesso ti faccio vedere aspetta un attimo che sì tiriamo giù un paio di zombie sì sì vi piacciono gli zombie a me molto kaboom ah zamp vieni qua a destra ok ci sono guarda dove sono io venite qua svolto ah hai già aperto qua a destra perfetto io prendo sempre il krm perché secondo me per i primi 6-7 round ok allora ron tu dopo apri qua adesso dobbiamo andare a mangiare l'apro anche adesso così diamo a mangiare ai cani ai cani e ai dragoni vabbè praticamente adesso spawno un drago qua bomber mi piace provo che avevamo lì in stato intanto portateli qua portateli qua raga arrivo arrivo io ho preso il pezzo per lo scuro vabbè vabbè ron 3 siamo ancora sono ancora lenti stiamo aspettando sotto il dragone camminosa di magno wow che cazzo ma che cazzo ma sono malati so il dragone come come i cani di come si chiama di si di dell'altra zombie è quella sulla quella penitenziaria no non è penitenziaria si non mi ricordo come cazzo si chiama la prigione è come il mob of the dead ma è esatto madonna quella mappa ti ricordi quando facciamo le corse dal faro a alla cosa aspetta allora zamp adesso gli zombie quando siamo qua dobbiamo ucciderne uno qua e lui li mangia ok sai mangiarne tipo 7 quando ne mangia 7 andiamo avanti e poi facciamo mangiare gli altri ok invece juggernaut e altra roba eh devo attivare la corrente dopo che attiviamo devono fare il giro con calma io prendo la gobble oh l'ho preso guarda regà ho preso gabbo fagli entrare gabbo che cazzo divento immun agli esplosivi è vero è vero è vero scusami bomber sono immun agli esplosivi raga che c***o non uccidete lì raga fateli venire qua fateli venire qua non venite qua che faccio il gruppone poi vengo con tutti fai il gruppone te allora si 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 ok già da lì va bene bomber occhio zamp perché sono tanti non venire qua aspetta zio scambia dobbiamo fare qua 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 vabbè non l'ho mangiato vai tira giù tira giù zio non ci penso più ok devi morire devi morire devi morire però siamo bomber mamma mia è fatta molto bene siamo arrivati veramente è fatta molto bene 23 prima me l'ha fatto un po' raga andate schiacciatevi in fondo che pian piano ti effettiremo su questo si si porta lì su portai sul sito mi fagli rimangiare aspetta aspetta zio aspetta zio fagli venire con calma si si mi fatti con calma applausi 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 per gabbo aspetta che ritengo aspetta che ritengo no no vieni qua vieni qua bravo 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 ma mi sono stupidi i primi round oh aspetta fagli lo mangiare poi ammazza gli altri aspetta questo dai vai a fare la pappa la pappa si è incazzato questo raga dai ancora qua porta lì sotto porta lì sotto i due versi dai lo mi fa morire te lo giuro e crepa merda con quali problemi anche tu ok questo è andato ma che si distrugge ole ok praticamente i cani i cani zampo poi vieni qua che andiamo a accendere la luce vieni a dire un'altra volta praticamente e poi riesci a parlare ah praticamente zamp praticamente sali praticamente bisogna andare a mangiare a tre draghe che ti danno un arco fortissimo e poi fino ad andare a 20 più o meno shotta è un po' la chiave di tutta la mappa e poi devi potenziarlo far l'easter egg fa roba si è un casino ma ruin è quella che si sblocca eh lì è un po' complicato tipo la wonder weapon devi fare i tre pezzi ah ma solo uno ce l'ha quindi è ragnarock è quello che salvano i tre pezzi ah è ragnarock ah ok allora non è neanche troppo complicato devi aprire questa zampo quando puoi che c'hai i soldoni aspetta eh arrivo cosa qui posso dare un armi non ho niente si tanto non mi fa niente non è vero non è vero mi sta uccidendo gabbo aiuto gabbo gabbo amo la mia vita ti prego ecco amo la mia vita sei morto bello eh si ho il che gnappo che nabbo no non mi viene queste cose fatevi sotto cani di merda ah 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 boom cosa fai cosa cazzo riaio amico pene nero la devo uccidere i cani ma è incredibile mano amica aria anima 10 giocatori ahia vulcana ancora dai dai qua 1500 chiacca 3000 deluvia in aprile per la corrente no 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 armi non ho niente zio parto io va là no 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 aprivo io adesso avevi ragione perché abri te c'hai ancora il pompone si dopo che arma prendi eh io volevo prendermi brm che fortissimo c'è uno che sta limonando il muro ma che cazzo ok comunque dove dovevo andare mi sono perso ragazzi ho paura andiamo di qua andiamo di qua raga che diamo da mangiare all'altro cosa mi sono ufficialmente perso dai lu intanto provo a cercare i pezzi vengo a prendere vai no 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 sto arrivando sto arrivando t'ho visto t'ho visto possente proprio col codino guarda io sono il mongolo c'è no per dire che è mongolo è proprio perché è della mongolia è vero io sono sempre ritoso ma che cazzo è wonderfix qua c'è la cassa raga qua sotto è wonderfix una perk qualsiasi a caso ah io vado a fare da mangiare l'altro drago io velu non uccide lì qua quelli che dove sono io oddio ho visto la reagan stava impazzendo drago qui c'è solo uno dai forza chiama il tram usando il pannello di controllo del tram ti dà ti dà un moltiplicatore o un instant ok comunque io sto finendo i colpi non so che arma prendere il pezzo dello scudo ho preso ma l'ultimo dov'è per lo scudo eh lo so io zio voglio ricordare che oggi l'ho preso dobbiamo andare anche nella stanza ah ok è giù è nella stanza giù e nel non ucciderne più zamp ok ma mi servono armi dove siete voi il brm che cacchio e dove lo prendo delu no no sono io che ho fatto la cassa ah lo apro anch'io aspetta lo apro io non mi trovo molto bene con i mitraillatori però vmp lo tengo tieni tutto quello che mi sa ti mi hai sempre venito di una pistola vuol figata sta chiesa anche quello purtroppo che schifo mi rallenta e basta sto bastardo raga cercate di portarmeli dentro qua cercate uno solo può venire qua che così facciamo il dragon eh zamp tu vai io resto qua fuori faccio il gruppo e poi li riporto ok quindi che vado a fare da gabbo devi uccidere gli zombie lì no devi portarmeli solo qua guarda vieni ah ok devi cercare di ucciderli qua qua sotto ok ok faccio un giro allora te li porto qua benissimo venite venite a me venite a me oh bestie oh bestie del schifo vieni gamba bravo vai ucciditi io ne ho un bel po' qui eh gabbo sto arrivando ok ok posso ucciderli si tanto devi mangiare si si li ucciderli qua sotto qua sotto li prende il drago occhio sto arrivando dai occhio gabbo vieni te merdi merdi faccio la spiccola raga si dai ci diamo una volta occhio occhio a sinistra te li tengo te li tengo te li lascio 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 te li tengo no raga li state uccidendo troppo lontani mi sa eh zewamp stai fermo un attimo aspetta ah perché è pieno qua occhio vai vai lì vai lì ma te fagli avvicinare che tanto noi abbiamo il pompone li stendiamo qua eh ma non li devi cedere tutti insieme sennò perdi perdi le decisioni perché ne prende una una alla volta ah lì davanti tienili ahia stavo a morire bene ce l'avete fatta si si no fermo ok ok puoi prendere raga ricaricate ricaricate ma no sarei andato a comprarle buona ok ci siamo mi è andato a piangere sentirti davvero mi dispiace un po' ora ma non eri così due ore fa eh lo so ma sta peggiorando raga più parlo più fiamma il dolore allora Zamp vedi che qua c'è ci sono tre teste adesso dobbiamo prendere l'altra qua viene fuori un arco un arco da prendere ok andiamo qua sotto seguitemi che Ronx come me l'ha già fatto ok ok qua vedete che potete fare il doppio salto e tutto ragazzi ragazzi qua c'è l'ultimo pezzo ma non c'è qualche glitch per pagare c'è l'ultimo pezzo dello scudo che doveva essere qua sopra ma non c'è più Gabri ma il jug dove sta? il jug è andato qua sotto vicino non ti preoccupare ah non ce l'avete voi ancora no io l'ho preso però prendilo zio aspetta eh dove sta? in rinvio siamo io e Ronx è una bomba non la prendo perché così ho un po' di punti sono morto ok Zamp vieni eh mi sa che mi dovete reanimare no non prendere non prendere se no non prendi punti che ho ok andiamo andiamo se no non ti reanimavo eh no si che mi reanimavi come no eh qui ok occhio che non vorrei che ci chiudessero qui eh no 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 ma c'è il testo ma qua 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 c'è il testo non c'è più lo scudo dove era prima eh di che forma è fatta zio eh la parte frontale la parte del eh era qua sopra teoricamente eh ma secondo me è sempre qua ma da qualche altra parte ma si può vedere che è in posizione cioè è normale infatti in questa zona eh mamma mia che mal di gole c'è il jugger qui eh ed è anche attivo vabbè io lo prendo vabbè io mi devo fare un po' i soldoni è verde hai detto attiviamo la cosa che secondo me è il pezzo della visiera quello da dove ah ok ho capito ho capito ho capito Zamp cerca sempre di ucciderlo sotto al drago eh allora raga attiviamo sta cosa qua andiamo a cercare sul cielo se c'è dovete stare sulle piattaforme affinché non diventa tutto azzurrino a barler ah ok l'ho cercato tu qua Ron è bene eh io ho già guardato il zio non mi sembra di averlo visto aspetta che qua c'è fa parte dell'ister hack questa parte qui della prima vide tipo un buffo oh 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 ma che cazzo è già un po' qui dietro siamo uccisi si qua è più che altro dobbiamo uccidere quando sono vicino oh cazzo no merda se mi direi come come sono morto ho aspettato io mi copro un attimo che devo prendere il jugger aspetta zio ok no no preso 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 ok devo riandare a prendere il jugger sennò che rebo tu mori sempre quando hai il jugger e quando non ce l'hai non muore è pazzesco eh si no 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 lo devi decidere qua non so ma devo scendere di sotto data raga fateli mangiare al dragone raga si si li tengo cazzo non lo trovo qua il pezzo ma secondo me è inculato da qualche parte ma è visibile no? è per forza deve essere visibile raga provate ad aprire sta porta qua forse qua dentro zemp devi farlo mangiare ma io lo sto cercando raga ma non lo provo vaffanculo io raga lo scudo è importantissimo ma mai mi ha salvato un totto il culo prima con ronna che voglio ma sul serio ti salva proprio il culo ma rimaniamo qua sotto raga no no venirebbe a dividersi però bisogna trovare il pezzo del culo no 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 vaffanculo stavo chiedendo la porta sono arrivati e non li sentivo raga aiutatemi che qua sono abbastanza sicuro ho appena iniziato il round oh ma incredibile ha appena preso il jugger eh io c'ho andato e sono sopravvissuto non vorrei che devi dire ok è libero l'arco raga finito si 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 raga cosa sta succedendo mi son buggato ah no stia correndo sul muro sto a morire mi ero dietro darlo dietro 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 dito occhio grazie raga vado a prender l'arco pensavo di essermi buggato sul muro io sono da solo con 3.000 diretti all'arco è qua sopra no ma tu l'hai vista no non è che c'è tipo non è che è solo l'uscita per i per i zombie no che c'è un buco la si ma non so cosa servirà più avanti in pienso zio ma secondo me quei buchi tu dici dove esce il verde no 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 dove esce il verde secondo me dov'era dov'era l'arco raga qua qua è di sopra io vado a fare la cassa ma dai ma che cazzo è zamp aiutami qua no ma l'ho chiuso andalla con l'arco non puoi morire bomber no no raga occhio vai help me help me zamp distraete distraeteli che curo gabbo occhio che mi chiudono ok sei da solo in qualsiasi caso cazzo è l'ultimo pezzo dello scudo che mi gira il culo a me non avrei trovato ancora secondo me c'è un'altra posizione dobbiamo guardare anche in giro per la mappa o è per forza sotto non ho capito no penso che sia zile lì mausolei mausolei però che strano non può essere in altre posizioni no eh non lo so zio se qualcuno lo trova lo pilli più che altro bisognerebbe guardare dove abbiamo preso gli altri ne abbiamo già preso uno dal mausoleo è l'unico che manca perché secondo me si intercambiano tra di loro no no l'ho preso da tutte le altre parti oggi dove l'hai trovato sopra in cima? io sono il cuda regà porca puttana boh io da un'occhiata da un'occhiata ancora giù che vedevo di anche io se la da un'occhiata non trovi a niente perché c'è una lampada? boh eh i punticini li faccio quest'anno però non è possibile che lo prendi tipo correndo sul muro no? si dovevi correre sul muro ma non c'è neanche sui muri zio cazzo che strano vabbè ho sciato tanto sono qua vabbè raga ma io so stifido però vabbè però dobbiamo una mano cioè raga ma che al prossimo round arriva il daddy ve lo dico il daddy che cazzo stai a dire eh si è uno baci di scomp giù è quello è quello della mappa è quello della mappa lì che c'è di origine provo a cercare un po' qua dai lucus secondo me qua Ron non ha guardato eh secondo me è qua anche perché è pieno di roba che cazzo e ci sono le bombole qui dove trasportarti orca puttana me ne ho uccisi 3000 qua fuori niente quel pezzo di scudo è impossibile perché è la visiera boh era lì comunque non so raga la cassa dove cazzo è migrata raga la cassa dove cazzo è migrata raga la cassa dove cazzo è migrata è una cazzo guarda il cielo eh ci sto guardando ma eh centro mappa dovrebbe essere forse dovrebbe anche essere abbastanza visibile comunque ah ok l'ho vista ma non so come ci si arriva ma lo vedo pezzo di scudo gabbo c'è nel senso dovresti vederlo proprio ma raga era palesemente qua sopra trovata fa vedere si trovato la cassa buona non me lo ricordo vmp ancora che palle ci svolge qualcosa per forza tanto la gente è interessata d'altro che a vedere dove a darci la mano su dove lo scudo locus fate pare vabbè vabbè ragazzi non lo trovate ama intanto è una run per far vedere infatti eh io raga sto nel cortile centrale quello che c'era la cassa all'inizio facciamo ancora un round e poi andiamo a potenziare la kk ci sto anzi direi proprio di finirlo a round chissà dove cazzo è lo scudo fail guarderei alto c'è Big Dendy c'è Big Dendy c'è Big Dendy zemp che fai? no me l'ho chiuso merda raga mi c'ho il cuore che è a 2000 ma hai salvato ho salvato l'ora cazzo cazzo sono senza jag cazzo è il Big Dendy ah sparate di quella con la freccia caricatela al massimo e sparate cazzo l'ho mancato ma sono oh merda cazzo di tudda guarda che mi vado a incastrare 3 2 10 12 mi vado a incastrare apri le macerie muovere devi cazzo muovere dove sono? ok zamp un attimo che c'è Gabbo che è anche lui in difficoltà lo vedo vero ce l'avevi dietro maledetto te non ti lasciarne uno per forza raga la scimmia come c'è la scimmia la scimmia la scimmia che tirano è morto per la pace ah è bastardo muore zambra tia al fu come si tira la scimmia? L1 per morire peccato che sei morto la scimmia 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 è proprio anche il big daddy non lo segue ed è del capo capo sparratevi con l'arco tutti quanti da minore teorema che cazzo l'ho morto morto è morto ma non è come siamo usciti da sta situazione raga lasciate di uno devo andare a prendere per forza la roba un altro a casa con sua sinistra devo prendere la jugger che non so dove anzi si eh io pure è qui dal centro mappa devi aprire sopra le statue dei guardiani trovate lo scudo per andare a vedere ho uno che ha dato la mano gg come si chiama? sotto le statue ringraziamo a piramide grazie mille grazie bomber piramide quali sono le statue dei guardiani sopra quelle che sono qua a lato il 4 qua a lato da qui andiamo direttamente da qua ma io l'ho già preso il giac ah ok allora a post what perché non le vedo sopra le statue dei guardiani e sono questi i guardiani questi 4 qua aspetta attiva un attimo aspetta forse dovrebbe essere qua sopra dobbiamo farlo slide qua sopra e dici ma ma che eccolo eccolo qua è qua dietro raga grandi zii grandi grande raga aspetta grande raga grandissimi geniale come cazzo ho fatto a metterlo lì dov'è lo scudo trovato trovate qua dietro figlia ok montalo qua grandissimo copritemi e via copritemi mi raccomando dove è adesso a qua perfetto dai e cazzo perfetto questo qua vi copre dietro le spalle mi raccomando grazie mille allo bomb adesso pacca punch signori eh io non c'ho i soldi va qua giù io li ho ma è iniziato il round sì allora è meglio che ognuno si prenda la posizione non so dove andare perché non so dove volete andare voi venite qua il teletrasporto raga qua 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 non mi vedo qua deludio dentro qua dove cazzo è partito velu ma sei ubriaco no ci sono capri facciamo il giro io ho seguito gabbo cazzo io pensavo fossi capri ma dove cazzo sei andato anche te no allora stiamo arrivando giù aspetta tutti giù tutti giù tutti giù ah ma è il teletrasporto è anche quello eh zio per dio per dio zamp allora adesso mi devi seguire guardi però siamo che tarelli che siete ma mi aspettavo da solo nel trasporto da solo mamma mia sono anche salvi se volete avete fatto perdere la cherry e tutto dai che la vita è bella dove andiamo a potenziali la voce è un po' di nino eh lo so capita guarda quanti stupate paglioni guarda quanti punti ti faccio questa roba ma raga qua c'è una cassa se volete se avete bisogno di armi scappare oh bella questa cassa mi piace mi piace no 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 che palle mi chiudono in continuazione non conosco la mappa bene chissà purlo vuol dire che sei bloccato per forza se ti chiudono girati che sai lo scopo raga raga venite qua da me mi seguite Gesù bambina non ti vedo vabbè fa al teletrasporto quello da premere bomber bomber non so dove cazzo siano raga eh no io sto aspettando capo che si gira ok andiamo ci siamo ci siamo dai venite qua ah ho capito ah è vero sì sì arrivo 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 dove siete laggiù io vado ciao zamp dalla aspetta sto arrivando so lentissimo c'è sto coso dai figa dai paga te dei lu paga te dei lu pago io solo perché c'ho i soldi paga pegue pegue ole non so che potenzia raga il vmp mi sa io non potenzio un cazzo perché c'è il vesper il potenzial vesper no c'è un po' il potenzial eccolo qua non è andata via la cherry ball la macone vaga coprita impalatore istruttore illuminato via gabbo buona ci piace come si fa no aspetta un attimo prima di ripartire io lo voglio ripotenziare no acqua vuoi prendere le munizioni di quello che hai potenziato no no semplicemente ah non abbiamo liberato la destinazione semplicemente c'è vmp di e come facciamo ho andato dall'inde dove siamo arrivati ma aspetta un attimo che faccio due punti non l'avevo visto my bad ma raga ma starman non fa un cazzo eh ma adesso devi potenziarla 2005 devi spendere faccio gabbo nara sono tutti qua raga oh merda ok sono pochi mucca devo fare ancora punti un cavo inizio a meno che non dobbiate potenziarmi in eltra oddio io dovrei potenziare e ne ho tanti però non so pochi d'artificio cazzo me ne faccio sono ancora indeciso perchè starman mi fa quanto cagare quindi non c'è che non so devo prendere la spiccola assolutamente si può potenziare due volte ve si anche 3 4 10 si che ti dai bonus soliti eh io ripotenzio il vmp allora teo non è il caso che tu dobbiamo andarcene via da qua raga eh lo so io sto aspettando voi io devo ripotenziare aspetta se riuscite a tenermene in attimo lontani ma ce la facciamo al round riusciamo anche a passarlo ok sto ripotenziando tenetemene in secondo lontani c'è il capo da dietro ce l'ho sta per partire il razzo raga tutti di qua tutti di qua via 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 no ragazzi come ci dobbiamo teletrasportare via 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 no no non serve non serve non serve non serve non serve sta laggando sta laggando tutto eh la mappa è la mappa è la mappa è la mappa ah non possiamo andare mentre c'è il razzo ok raga sto toccando io raga mi lascio lì bella si no perché se no ci blocchiamo con l'arco tirato vai dentro guarda aspetta arrivo andiamo cos'è l'impalatore c'ho solo 5 colpi come fanno ad essere già finiti che cazzo di figata è l'arma potenziale non ero mai accorto si scusa no che è sta storia che non c'ho colpi per l'impalatore oh ma basta dov'è la cassa raga è vicino al jug è sempre lì no ma quella era perché c'erano gli sconti zio e allora devo trovarla mi serve un'arma buona si ma dai non possono essere già finiti i colpi l'ho potenziata adesso e per quello ti dico di non potenziare adesso tu comunque uccideresti comunque cazzo eh perché moncio manco più un'arma bisogna che peggio ancora dov'è la cassa ora neanche se potete ho fatto un po' di più ah cazzo c'è dove cacchio scappi tu devo comprare la prima arma a muro che trovo cazzo scambiala per quella potenziata tanto con i soldi che ti fai poi adesso ha coltella la c'è oh bella gobblegum oh oh wow wow che cacchio di gobblegum è scambia armi e usi oggetti rapidamente bello mi piace c'è un fusibile qua ma non penso serva boh no non puoi usare puoi anche non prendere la bomba ho preso l'M8 ma mi pare una merda madonna raga la cassa sapete dov'è no? ma io dove posso ricaricare le munizioni? prendo un'arma da muro mi son bloccato gabbo io comunque adesso raga mi prendo il BRM qualcuno ce la fa sono andato giù raga sono andato giù raga cazzo come un babbo sono il primo drago raga eh anch'io però sono fuori dal primo drago guarda che provi ad arrivare da te non dovrai avere problemi se ce la fai ad arrivare da me ce la facciamo anche ad arrivare rom sennò siamo negli io ce n'ho un botto ragazzi non mi posso muover eh dai 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 ce la fai ce la fai allora ce la fai a voglia ho la mimetica nuketown la cosa bella è che ho la mimetica nuketown no no nuketown no no nuketown capisci ha dello sbogo orca troia quanti ce n'ho stanno veni tutti da me qua raga ce la fate vai delu vai delu grande zio no no eh mi ha tirato un pugno eh mi ha tirato un pugno non ce l'ho fatta qua ci rimango tutto gabbo e zamp sono rimasti no ci rimango anche io qui muoio sicuramente anch'io occhio zwemp se veniva a dare una mano forse eh ce n'ho troppi io non posso muovermi niru ti giuro no no ma qua ce la fa ce la fa non ce la fa allora è l'ultimo è l'ultimo si è l'ultimo io più che altro ho bisogno di un'arma beh te io non posso rimanere ancora tanto perché poi devo prendere medicine e quant'altro quindi non so se ce la fate ok io sto cercando di azzoppare merda sto cercando di azzoppare sto stronzo ma non è easy si ce l'ho fatta la cassa è crosta dov'è la cassa che mo la vado a pia si mi metti canjukton questa qui non la vedo più che altro è da qua dentro non si vede ah l'ho vista io lo so io dov'è devi tornare al cortile centrale e sali vai sulla destra del castello basta che guardi in cielo dal cortile centrale la vedi io adesso la pio vediamo che esce 205 brecci lo prendo no schifo c'è uno zopo qua ah bello bello capito mo cerco qualcosa da prendere e potenzi che facciamo teo e niente tanto ragazzi sono mezzo morto si è in real life che sto per perdere la voce per eh torsetto eh io direi di vabbè raga diciamo che abbiamo fatto vedere come prova come prova comunque mappa ci sta abbiamo capito poi round 16 e moriamo tutti round 16 vabbè gabbo io vorrei parlare e salutare ringraziare tutti non ti preoccupare che ci penso io ai bomberisti non ci te zio perché io sto per morire ma per morire il round quindi signori dai facciamo tutto il round con gli archi verbo vabbè non è che poi sia difficile ceitsimo qua tutti no effettivamente come comunque a distanza di un'ora e parte 33 minuti siamo ancora 3.600 spettatori che vuol dire che comunque una media di 3.600 persone che ci ha seguito non è per me merda siete forchissimi oggi oggi abbiamo dato proprio il top di tutto del mondo e direi io muoio a fianco a Ron perché sono io non voglio morire no comunque è una figata il fatto della staroba qua degli archi è geniale che hanno ritirato fuori prima c'era il Tomahawk con Move of the Dead e no non è rianimare non muore mai dai jump io sto cercando di morire ma ve lo giuro non ci riesco non toccarmi scrivo jump non muore quando si sa che dobbiamo finire la partita quando invece dobbiamo fare i record muore sempre boom ma si l'ho presi cazzo ahah cocaine rain io sparo in aria e pericato a 9.13 12.000 punti cazzo posso andare a potenziare si può potenziare l'arco? eh si ciao saluta a casa ce ne vuole per potenziare l'arco dai raga giù finisce qui pramp dai jump sto uccidendo tutti cazzo ho finito quasi i colpi basta è partito raga dai jump è irrefrenabile sono irrefrenabile cazzo non mi arrendo fuori il prossimo avanti il prossimo dov'è? è lui guardalo come corre niente è inarrestabile si siamo sopravvissuti zamp schiaffami sta ranza bomber aspetta che arrivo ma mentre mi schiaffate mi rianimate dov'è? ah 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 poverino oh cazzo voglio riportare pace e ordine nelle nostre vite vabbè Gabbo fai l'outro e poi dopo e anche perché ci sono i big daddy quindi cazzo allora signori cerco di stare il più camo possibile anche se so che ci sono i big daddy cioè i big daddy grazie mille a tutti per oggi davvero stati fantastici cioè avete fatto il macello spero che vi abbiamo divertito tutti abbiamo cercato di abbiamo portato tutte le mappe giusto? si si l'aiuto c'è il big daddy incazzatissimo che mi corre dietro è morto è morto è morto sta merda che è proprio scialla c'è capito prima all'ondata 12 eravamo tipo mesi male io c'ho ancora la scimmietta cazzo mi dimentico sempre di tirarla sicuramente ne faremo altre i streaming io ringrazio anche ringraziamo anche Velox e Lama per la partecipazione tu Delo sei pronto a spegnere così evitiamo di fare out si si io sono sono prontissimo ci vediamo sui nostri canali e su me la godo grazie mille a tutti e niente bella alla prossima stream stia con voi e con la mia voce di merda pure e con lo spirito del povero ragazzi se non mi vede su youtube per un paio di giorni è perché sono morto da qualche parte guarda guarda come si avvicina il microfono comunque se no veramente non ce la faccio più parlare un ringraziamento ancora a tutti quanti niente buona serata grazie di cuore bella bella ciao ragazzi